Decifra la storia insieme a Transcribus. Vivi l'editing senza sforzo di documenti storici grazie all'intelligenza artificiale. Allena i tuoi modelli di IA personalizzati. Il nostro editor per correzioni, trascrizioni manuali e la modifica del layout evidenzia ogni dettaglio. Condividi i tuoi documenti con Transcribus Sites. Con l'estrazione strutturata dei dati, pronta per l'analisi, unisciti a oltre 150.000 persone nella nostra comunità. Abbiamo creato insieme oltre 150 modelli di IA pubblici. La nostra app web intuitiva rende la storia tangibile. Inizia ora a decifrare il passato con Transcribus. Registrati e processa 100 pagine al mese gratuitamente.